Andiamo a conoscere una realtà importante per la nostra città, tra l'altro molto vicina a dove ci troviamo in questo momento, la Savat Molasana. Ci racconti che realtà siete? La nostra è una realtà molto giovane che si prefigge di far crescere dei ragazzi in giovane età con lo scopo di portarli all'attività sportiva e dare il loro modo di crescere sia a livello agonistico che a livello personale con i valori dello sport che cerchiamo di insegnare loro. Quanti ragazzi riuscite a coinvolgere nelle vostre attività? Da che età partono i corsi? Qual è l'attività che fate in palestra? L'attività che facciamo è rivolta sia ai ragazzi che alle ragazze. Abbiamo una ventina di iscritti che frequentano abitualmente e l'età variano dai 13-14 anni fino agli over 40, diciamo. Quindi un ampio panorama a livello anagrafico. Per chi ancora non vi conoscesse, dove possiamo trovarvi? Come possiamo contattarci? Allora ci trovate dai campi di calcio del Caderissi tutti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 fino alle 20.30-21 e anche al sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.00. Andiamo ora un pochino più nel particolare, nella stagione sportiva della Savat Molassana. Ad oggi come sta andando questo 2019? 2019 molto positivo, i ragazzi sono ben allenati e il 2019 promette bene e speriamo di dare delle realtà alla Savat. Il percorso momentaneamente a prima vista ci sono i campioni italiani, prossimamente ci saranno delle gare a livello societario. I campionati Liguri sono stati svolti nel 2018 a dicembre con buoni risultati anche lì perché abbiamo avuto tre campioni Liguri nei ragazzi, negli junior, nei cadetti, quindi siamo molto soddisfatti.